Il mercato di Chieti del venerdì resterà in via della liberazione. Non ci saranno più bancarelle su Corso Maruccino questa mattina, il test dopo la decisione irrevocabile dell'amministrazione. Non ho parole, a me non piace questo qua. Perché? Perché è troppo giù, troppo lontano. Per fare la salita con i pesi è tosto, insomma. A me non piace come sta, perché praticamente gli alimentari stavano tutti qua, magari una persona di una certa età potevano fare un po' di spese, mentre invece da là non si può. Non è facile mettere tutti d'accordo e fare la quadra delle esigenze di utenti e di commercianti che comunque hanno un punto di riferimento certo nell'amministrazione Ferrara. C'è qualche problemino ancora da aggiustare, sia i pullman che passano all'una e mezza, sia le bancarelle che stanno verso la fine, insieme all'assessore. Stiamo cercando di trovare qualche soluzione un po' migliore per tutti. Appuntamento con l'assessore al commercio martedì prossimo negli spazi di Viale Amendola. Il mercato di Chieti è diventato un laboratorio di idee che però si materializzano, tant'è che ci sarà presto un altro mercato al villaggio mediterraneo, una zona residenziale della città che accoglie tanti studenti. L'intenzione è quella di iniziare con una trentina di espositori. Gli uffici stanno già preparando il bando che sarà a breve pubblicato per raccogliere adesioni. Mi preme ricordare che c'è stata in queste settimane una parte dell'opposizione che ha cercato di alimentare un disagio che non c'è, c'è invece un'amministrazione, la nostra, che è al fianco degli operatori e della categoria nel divenire a soluzioni concrete per rendere questo mercato il più efficace, il più efficiente possibile. Ieri c'è stata un'importante riunione, con gli operatori abbiamo condiviso un percorso che siamo convinti porterà al successo di questo mercato sia per gli operatori che per la città. E non manca la voce di chi ha accolto il mercato unico molto positivamente. In questo modo si crea proprio uno spazio interamente dedicato al mercato della città di Chieti che è un luogo per noi chietini di ritrovo ma anche un modo per vivere la città. Fa parte della nostra quotidianità del venerdì comunque fare un giro al mercato con la mamma, con i bambini, quindi è una buona idea.